Digital is running. L'idea è che il digitale sia partito, ma non solo sta accelerando. La Convention on White Team System porta la proposta digitale nell'ambito della Digital Week. Talks significa discussione, dialogo, perché noi pensiamo che il digitale sia qualcosa che non si può fare da soli. I nostri clienti, sia le aziende che i professionisti, cominciano ad avere benefici tangibili e misurabili dall'investimento, dallo sforzo di aver abbracciato la trasformazione digitale. Il digitale sta correndo anche nell'ecosistema Team System. Due importanti opportunità di mercato, sicurezza e privacy. Si tratta di fornire degli adeguamenti software a tutta la nostra customer base. Inoltre verrà immesso sul mercato un nuovo prodotto, si chiama Agio Privacy, con il quale renderemo possibile a tutti i nostri clienti di essere compliant con la normativa contenuta nel GDPR. La seconda opportunità è l'entrata in vigore della fatturazione elettronica B2B. Un potenziale di vendita su centinaia di migliaia di imprese. Le novità più importanti sono nell'ambito del digital e mobile e innanzitutto del cloud. La suite Linfa è stata finalmente resa cloud. Aliante diventerà cloud presto. Abbiamo aggiunto anche delle app, come l'app employee o la console digitale, che estendono il rapporto dello studio con la propria azienda e dell'azienda con i propri dipendenti. Abbiamo cominciato a identificare quello che è il nuovo modello di canale. Molti dei nostri venditori ormai diventano degli personalizzatori delle nostre soluzioni in cloud, creando di fatto una soluzione personalizzata a 360 gradi. Per far questo abbiamo anche lanciato un hackathon. Chiederemo a giovani sviluppatori di avere una soluzione che crei valore aggiunto per un ipotetico cliente, piccola azienda o professionista e che lo faccia come? Lo faccia in maniera integrata alla nostra piattaforma. Il digitale si fa insieme e stiamo facendo la nostra parte. La parte che ci siamo scelti è quella di far accadere le cose, che è una caratteristica che da sempre ci contraddistingue. Non essere più dei meri produttori di software, ma trasformarci in produttori di competitività. Grazie. 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 Grazie.